Tra chi esce dalla porta e rientra dalla finestra, vedi l'ex governatore della regione Abruzzo Gianni Chiodi, silurato da Forza Italia e ripescato capolista alla Camera nel collegio Aquilano Terramano per noi con l'Italia, quarta gamba del centrodestra, e che invece è rimasto con un pugno di mosche proprio all'ultimo, vedi Di Stefano nel centrodestra, oggi noble nel centrosinistra, si è composto il quadro delle candidature alle politiche del 4 marzo. Saranno 180 i candidati tra le liste maggiori, candidature che sono destinate però a lasciare strasciche all'interno delle segreterie dei partiti, ad essere critici soprattutto gli amministratori locali, poco rappresentati a destra come a sinistra. Nel centrodestra il rinnovamento annunciato da Forza Italia e dal coordinatore regionale Pagano segna anche una profonda spaccatura interna al partito. Di Stefano, Febbo e Sospiri, con toni diversi, aspettano alla finestra i risultati dello spoglio. Se non dovesse arrivare un risultato positivo per gli azzurri, soprattutto nei collegi uninominali, finirebbe sotto attacco la linea Pagano avallata da Berlusconi. Infatti, Lorenzo Sospiri in una nota sottolinea come la scelta dei candidati abruzzesi richiami innanzitutto una importante assunzione di responsabilità, soprattutto per il coordinatore regionale Pagano. Anche a sinistra e nel PD non mancano gli scontenti. Nel Taramano la frattura fra la corrente Mariani e quella ginobla è destinata a trascinarsi fino alle prossime elezioni regionali. Per ora è passata la linea dettata dal governatore D'Alfonso, che dopo settimane di dubbi di manzoniana memoria, ha deciso di accettare la candidatura come capolista al Senato. Per il presidente potrebbe essere l'occasione per zittire i dissidenti interni alla sua giunta e alla sua maggioranza, ma in caso di risultato negativo le divisioni potrebbero accentuarsi. Resta sempre il nodo da sciogliere ed Alfonso andrà davvero in Parlamento o resterà a governare l'Abruzzo? Tra i 5 stelle a tenere banco è la GAF nazionale sulla candidatura di Rinaldo Veri, ammiraglio ortonese, già candidato a sindaco nelle passate amministrative e consigliere comunale del Partito Democratico. Ieri era stato presentato dal candidato premier Di Maio assieme ad altri esterni al movimento, come l'ex direttore del centro Primo Di Nicola, ma nessuno aveva controllato i suoi trascorsi e l'ammiraglio non sapeva del regolamento interno al movimento che impediva la candidatura. Nel frattempo, tornando nel campo del centro-sinistra, oggi è stata presentata a Pescara la lista insieme, che correrà in Abruzzo. Quest'alleanza con i Verdi e con alcuni movimenti civici porterà quel consenso aggiuntivo che è importante, sia per superare lo sbarramento del 3%, ma anche per poter far sì che anche l'Abruzzo diventi protagonista e, perché no, eleggere un proprio rappresentante nel Parlamento nazionale. A sinistra e in liberi uguali è tempo di mettere da parte i mal di pancia interni che comunque restano tra la vecchia guardia, capeggiata da Melilla e i nuovi ingressi sostenitori della linea di Pietro Grasso, come Marinella Sclocco. Ancora più a sinistra questa mattina sono stati presentati i rappresentanti di Potere al Popolo, che raccoglie l'eredità di Rifondazione Comunista. Oggi viviamo in una società troppo precarizzata, dove i giovani non hanno più sogni, non hanno più futuro. Vogliamo restituire i sogni ai ragazzi e vogliamo che tutto questo venga condiviso con la gente, con le persone che noi siamo. Non è possibile vivere in una società dove le disuguaglianze sono diventate abissali.